Al prossimo intervento, quindi saltiamo il triangolo Lombardia-Emilia-Piemonte e scendiamo in Toscana. Alessandro Fabrizi del Consorzio di Bonifica Toscana-Costa. Buongiorno a tutti, grazie a CIRF, Regione Emilia-Romagna e Consorzio di Bonifica Emilia Centrale. Per noi questa è un'opportunità, Toscana non è molto presente in questi consensi, quindi questa è una grande opportunità. Vi parlerò del progetto Life Airwatt, un progetto Life che riguarda il territorio della Val di Cornia. Siamo in Toscana, Toscana del Sud, la Val di Cornia è quell'area che è prospicente l'isola d'Elba. Qui la risorsa idrica è ospitata in un grande acquifero di pianura alluvionale e la risorsa idrica serve anche, a proposito di l'isola d'Elba, serve anche una parte dei consumi civili dell'isola d'Elba con una condotta sotterranea. Diciamo questo grande serbatoio, in questo grande serbatoio è un serbatoio che viene utilizzato per tutte le attività umane che si sviluppano in Val di Cornia, come ho detto anche all'isola d'Elba, quindi attività produttive, turistiche, industriali, agricole soprattutto e civili. I partner del progetto sono il Consorzio di Bonifica Toscana Costa che è il Capofila, la Regione Toscana, la Spuola Superiore di Studi Sant'Anna e il gestore del servizio idrico integrato dell'area ASA, più i tre comuni che sono sostenitori della bassa Val di Cornia, Piombino, Campiglia Marittima e Suvereto. Perché ci siamo incamminati in questa avventura dell'AIF? Perché c'è una situazione di grande stress della falda, negli ultimi 30 anni, dal 1970 al 2000, c'è stato un deficit di bilancio idrico della falda di circa 8 milioni di metri cubi, questo ha provocato un abbassamento di decine di metri del livello piezometrico, con ulteriori conseguenze tipo l'intrusione del cuneo salino, quindi ha reso inutilizzabili tutti i pozzi costieri per qualsiasi uso, ha provocato anche fenomeni di subsidenza nei fabbricati rurali della piana. Il progetto cosa prevede? Sostanzialmente si basa su due pilastri. Da una parte la realizzazione di 5 interventi dimostrativi, sperimentali, di vario tipo, che riguardano la risorsa idrica, dall'altra in parallelo un processo di governance che dovrebbe concludersi con la stipula del contratto di fiume. Cosa abbiamo realizzato fino ad oggi? Abbiamo realizzato 4 di 5 interventi dimostrativi, l'intervento di recupero delle acque reflui per irrigazione di un campo sportivo è in corso di realizzazione, ma abbiamo già realizzato un impianto di ricarica controllata della falda in località Forni a Sovereto. È un impianto semplicissimo, dal costo modestissimo, perché con meno di 300 mila euro siamo riusciti a creare un'area in un basso topografico vicino al Cornia, dove deriveremo una quantità di acqua, che è variabile ovviamente in base alle precipitazioni che ci saranno naturalmente, da 300 mila metri cubi a 2 milioni di metri cubi. La potenzialità è questa. Con un costo, dicevo, estremamente modesto, imparagonabile a proposito di invasi, ieri si parlava di invasi superficiali, assolutamente non paragonabile con la realizzazione di un invaso, che costerebbe 10, 20 o 30 volte di più, a parte le procedure amministrative. Abbiamo realizzato un intervento di qualificazione fluviale, su come si affermerò fra un minuto, e un altro intervento riguarda, qui vedete un campo di carciofi, un impianto di irrigazione sottosuperficiale a goccia, cioè con manichette che sono poste a 30 centimetri di profondità, che vanno a dare l'acqua con un sistema di sensori abbastanza, diciamo così, che si può comandare da remoto, che hanno consentito nella prima stagione un risparmio di acqua dell'80%. La seconda stagione purtroppo ce l'ha fatta fuori la gelata del febbraio scorso. Più, vabbè, l'altro intervento riguarda la gestione delle pressioni in rete nell'acquedotto di Piombino, che è in corso di realizzazione. Qui si vanno avanti. Scusate. Per quanto riguarda il contratto di Fiume, abbiamo attivato il documento di intenti, abbiamo sottoscritto il documento di intenti, Regione Toscana, gli otto comuni del Bacino, la Scuola Superiore Sant'Anna e anche il gestore del servizio video integrato a maggio scorso. E quindi è iniziato il percorso del contratto di Fiume. Il Corne, Fiume Cornia. Fiume Cornia è un torrentone sostanzialmente, con piene improvvise, anche violente, però con periodi lunghi di estrema siccità, anche di flusso zero, diciamo, direi. Il bacino, le caratteristiche del bacino sono queste. Questa è l'evoluzione del bacino, della copertura forestale negli ultimi 150 anni. Come vedete c'è una grande copertura forestale che è incrementata, si è raddoppiata nel giro di 150 anni, siamo al 75% della copertura forestale. Le altre caratteristiche intrinseche, diciamo, del bacino, diciamo, presenza di terreni poco permeabili, bassa clività, quindi scarsa intensità delle precipitazioni e debole erodibilità di versanti. Questo, diciamo, tutto questo, diciamo, ci consegna quindi un sistema a basso dinamismo idromorfologico, che è un problema ovviamente ulteriore. In più, in più, il corso mediano del Cornia è stato interessato da grossi interventi, massicci interventi di prelievo degli inerti, dal dopoguerra fino agli anni Ottanta, che hanno ovviamente avuto degli effetti estremamente negativi sul corso d'acqua e poi sull'ambiente in generale. Quindi con una forte canalizzazione dell'alveo di piena, la riduzione della piana inondabile, un impoverimento ecologico complessivo. Qui vediamo alcune foto del Cornia in questo tratto, in questi tratti, diciamo, dove si vede bene l'incisione e il restringimento dell'alveo. Qui sotto, vedete una cartina, ora molto velocemente, ci fa vedere quant'era l'ampiezza dell'alveo attivo nel 1835, nei vari anni, poi fino al 2013. Ecco, un secolo e mezzo fa il Cornia era mediamente largo 70 metri e ora è mediamente, l'alveo attivo è intorno a 20 metri. Tutte queste analisi ambientali, idromorfologi sono riunite in una linea guida, in un documento che è questo, mi sono scordato, scusate di portarlo, ma se lo volete a richiesta, diciamo, ve lo inviamo, dove sono state le linee guida per la realizzazione degli interventi dimostrativi, compreso gli interventi di riqualificazione fluviare. Naturalmente, la scelta progettuale doveva tenervi conto sulla riqualificazione fluviare di alcune condizioni di contorno, a parte le condizioni del bacino, ci siamo concentrati in un tratto, un cosiddetto tratto disperdente, cioè dove, come vedete, l'alveo è a diretto contatto con l'acquifero freatico. In più, naturalmente, dovevamo tenere di conto di intervenire nelle aree demaniali e ovviamente dobbiamo tener conto anche, altra cosa importante, delle risorse messe a disposizione per questo intervento dimostrativo da parte dell'IFERWAT. Per cui abbiamo deciso di intervenire su tre tratti, molto vicini l'uno all'altro, nella zona dei meandri, intervento 1, intervento 2, l'abbiamo chiamato intervento 3, dove sostanzialmente ci siamo occupati di mobilizzare i sedimenti in alveo. al fine principale di favorire la ricarica naturale, cioè incrementare la ricarica naturale della falda. Se vediamo, intervento 1, intervento 2, che è un po' diverso, perché qui, come vedete, c'è una sorta di vasca che era stata realizzata 15 anni fa dal Consorzio proprio per ravvenare la falda, ma era completamente piena di depositi fini che avevano di fatto intasato la ricarica naturale. Il costo di intervento del primo anno circa nemmeno 100.000 euro, siamo intervenuti su un chilometro e poco più di fiume e abbiamo movimentato circa 3.500 metri cubi. Questa è una sezione, diciamo, tipo, non è, diciamo, è un po' rappresentativa, dove si vede che l'alveo di magra ha una dimensione intorno, mediamente, intorno a 5 metri. Questa invece è una sezione tipo dopo l'intervento, qui sono riassunti gli interventi che abbiamo fatto. Il primo, l'allargamento della sezione dell'alveo di magra. Abbiamo raddoppiato, triplicato, quindi 10-15 metri, siamo passati da 5 metri a 10-15 metri diciamo, come dimensione della canaletta centrale. Abbiamo realizzato delle controbanche a diverse altezze, in modo tale che quando, in occasione delle precipitazioni, si potesse aumentare la superficie di contatto con l'acqua. Per cui, sì, e poi abbiamo fatto un intervento, diciamo, più di carattere naturalista, abbiamo, stiamo, anzi, togliendo la rundodonax che è una fatica incredibile e abbiamo inserito, diciamo, una piantumazione di 1.809 piante. Risultati attesi e conseguiti rispetto all'IFE-RWOT. Ovviamente, ci sono alcuni parametri, alcune azioni che vanno monitorate, andranno monitorate nel tempo, tipo quella della, ci attendiamo un 10% in più di ricarica naturale della falda, però questo, ancora non abbiamo gli elementi e i dati per poterlo dire, però sicuramente abbiamo, siamo intervenuti su una, allargando l'alveo molto più del 20% che è stato, ci attendavamo, diciamo, e abbiamo scritto nel progetto e siamo intervenuti su un tratto di corso d'acqua sicuramente più del doppio. Questi sono gli interventi, ho chiuso, chiudo, il valore innovativo della riqualificazione fluviale di Fiume Cornia rispetto al progetto Life Air Watt è che questo è uno degli interventi, forse in Toscana credo sia il primo intervento diciamo di riqualificazione fluviale organica, è inserito, cioè la riqualificazione fluviale è inserita in un ampio, diciamo in un sistema, una strategia più complessa, diciamo che riguarda le risorse idriche e poi il principale scopo di questo intervento è, ripeto, la ricarica della falda. questo è il gruppo, una parte del gruppo di lavoro, vi ringrazio. Grazie Alessandro, non so se c'è qualche domanda. come hai detto è forse il primo intervento che si fa in regione toscana, credi, allora quali sono le difficoltà che avete incontrato a cambiare tipologia di intervento rispetto a quelli che sono gli interventi che solitamente fate e credi che questi interventi siano di aiuto per poter portare queste metodiche, questo approccio in Toscana? Allora, noi siamo abituati, stiamo a fare storicamente un po' di interventi diciamo classici di taglio della vegetazione, quindi già ragionare con i nostri tecnici di cose che sono diverse, che sono più complesse, che richiedono un'attenzione e una preparazione è già per noi un risultato. La strategia di Life Robot è una strategia che si applica alla Val di Cornia, ma noi abbiamo come dire in qualche modo scritto nel progetto e quindi l'ambizione che abbia un impatto perché così abbiamo scritto nel progetto, un impatto che andrà sulla scala mediterranea perché potranno essere replicati questi interventi che come vedete sono anche in certi casi anche alternativi rispetto ai metodi classici, per cui se manca l'acqua si interviene con un invaso. Però questa cultura anche dentro i consorsi è molto faticosa da acquisire, però noi ci siamo incamminati su questa strada e il contratto di fiume in qualche modo dovrà rafforzare queste scelte. Alessandro, ti faccio una domanda se rispetto a questa mancanza di cultura qual è stato il vostro rapporto con i vostri agricoltori, cioè rispetto alla scelta di queste soluzioni nuove, diverse, alternative, se li avete coinvolti, se li avete convinti in un qualche modo. Dunque, per quanto riguarda in generale una strategia diciamo complessiva sull'acqua dobbiamo ancora fare molta fatica, quello è un settore che sicuramente ha bisogno di un lavoro specifico, noi abbiamo due anni di fronte per la fine del progetto e utilizzeremo questi due anni per far accrescere la sensibilità da parte degli agricoltori. Una cosa, però, da poterla, gli agricoltori che ci ha ospitato tra virgolette nei quattro ettari di carciofo, di piantagione di carciofo, era credo uno dei più scettici che abbiamo scelto in Val di Cornia rispetto a questa soluzione della irrigazione sottosuperficiale perché ci aveva una serie di pregiudizi incredibili. Ora è il più grande sostenitore di questa tecnica, ovviamente questa è una tecnica che ha avuto l'opportunità di usufruire di un finanziamento pubblico, di un sistema che si controlla da remoto, cioè con un telefonino la figlia di questo agricoltore manda acqua in base a tutta una serie di sensori che ci sono nel campo e quindi dicano quanta umidità c'è, quindi è un muro che diciamo stiamo cercando di incidere, è molto difficile, forse la parte più difficile di questo progetto. Grazie.